Allora, vive nella famiglia probabilmente più felice del mondo, oggi, ma diciamolo, vive il dramma più grande perché d'ora in poi non potrà mai più lamentarsi del suocero, Alessandro Arroia, benvenuto a Factotum Buonasera a tutti, ciao Buon pomeriggio, ben arrivato a Factotum, ciao Alessandro Ciao Alessandro, perdonami ma non potevo non fare questa battuta perché io ho pensato esattamente a questo ho pensato al dramma, non c'è un'altra cosa che uno fa di più di lamentarsi dei genitori della propria compagna perché è normale, no? Sì, io sono un po' fortunato però Però tu non lo potrai più fare perché immagino tutti quanti che diranno ma no, ma Claudio, Ranieri, ma come? Che sentono continuamente questo, sentono tutte le battute, le conferenze stampa che ha fatto Scherzi a parte, come si sta a casa vostra oggi? Che cosa è successo ieri al gol di Hazard? Eh, in realtà c'è stato un momento di silenzio Un momento molto particolare In realtà io l'ho vista con mia moglie Quindi c'è stato un momento particolare, un momento di incredulità Fino alla fine è stato sospeso E poi è continuato all'incradulità in realtà Perché è strano spiegarlo così, però sono veramente una lunga, lunghissima cavalcata E quindi alla fine è come se avessimo subito uno svuotamento proprio Però fantastico Oggi forse è il momento già che iniziamo un po' più a goderci la situazione, un po' a capire Un po' proprio a vedere anche le reazioni esterne Quella è abbastanza divertente Come tutti sanno tu sei un grande attore E con la fabbrica dei sogni, diciamo, hai dimestichezza Però questo va oltre ogni possibile immaginazione E tra l'altro, ci mettiamo pure che tu sei anche tifoso della Roma Tu nel giro praticamente di 2-3 ore Hai visto segnare un quasi quarantenne, l'ennesimo gol straordinario In poche partite e poi vincere il Leicester Appunto guidato da una persona così cara, insomma Il calcio ti ha dato parecchio in questo lunedì? Eh sì, sì, mi ha dato parecchio Se si ha voglia Sì, sì, mi ha dato parecchio Parecchie emozioni soprattutto Ma stai provando magari anche a pensare a un film Su la cavalcata di Claudio Ranieri Magari potresti farlo tu il Ranieri invecchiato Io faccio il mio lavoro E so che già ci sono tante persone interessate a questa roba qui Quindi faccio un passo indietro Però un po' la faccia da Vardy secondo me ce l'hai Dici, eh? Sì, ma credo che ci stia pensando un'industria un po' più brava a fare cinema Quindi Eh vabbè, però magari Claudio potrebbe dire Beh, io però ce ne ho uno bravo Se volete i diritti In fondo ci avrà qualche... No, non funziona così Che peccato Io vado nel mio e nel suo Senti, è un po' la rivincita però della poesia del calcio Adesso al di là del fatto che a te ti riguarda così da vicino C'è qualcosa, vince un gran signore Vince un uomo di sport Che già col Catanzaro era arrivato settimo da giocatore Cioè vince un altro calcio Non so se sei d'accordo Te lo chiedo proprio da tifoso Guarda, io faccio un discorso un po' più Forse meno poetico Però un po' più Ehm Uso una parola brutta in questo momento Perché tutti vogliono solo parlare di poesia Però un po' più cinico anche Ehm E secondo me Sarei, è tutta questione di centimetri la vita E non fate battito a doppi senti No, no, no Stavo per fermare già Polis Guarda Però non mi offendere perché io una cosa so fare nella vita Forse che è il critico cinematografico Almeno questa la capisco di citazione Ed è assurdo vedere come Come è proprio vero nello sport Cioè io Se qualcuno c'ha voglia realmente di Godersi questo momento per Il personaggio Claudio Ranieri E si va a vedere i numeri Si va a vedere le situazioni reali Dove ha allenato Cosa gli è successo in questi anni Io ho la fortuna di stare con noi da sette anni Ho visto delle cose abbastanza interessanti Ho visto un Un secondo posto a un punto di una squadra Presa a zero punti dopo due giornate Con la Roma E una finale di Coppa Italia Perse da una squadra Che al momento Era la squadra del triplete Comunque una squadra che sembrava imbattibile E una questione di centimetri Una questione di Di apparata di storari Una questione di Di eventi singoli Ho visto andare All'Inter E all'Inter Ci stava a pezzi Erano terzi Hanno fatto tipo dieci vittorie di seguito E gli hanno venduto il giocatore E il più importante Che poi gioca tuttora O comunque Ha giocato come pivò Nella squadra Una delle squadre più forti Che è il PSG E non è un caso L'hai levato quello Hai levato una struttura Che lui aveva creato Intorno alla sua squadra E l'aveva Come dire Rimessa in vita Ma soprattutto È il Monaco Che io spesso Lo ripeto Sta roba qui Monaco è andato a prendere Una squadra che sta in serie B Una squadra che tutti pensano Ma gli hanno comprato i campioni Raggi Raggi I campioni I suddetti I campioni O carne da macello Del calcio mercato A volte Come la chiamo io Eh Gli hanno comprati Gli hanno comprati L'anno dopo L'anno della serie B C'è una squadra sfigata E ha preso Dei giocatori Dall'Under 21 Dalle giovanili Dei signori Che si chiamano Kurzawa Che è il carino del PSG Adesso Che si chiamano Antoni Marci Abbiamo visto Cosa gli ha fatto Con lo United Con Gobbià Che ha preso L'anno dopo Comunque tutti i giocatori Ferreira Carrasco Che è dell'Atletico Madrid Tutti i giocatori che Non esistevano prima Certo E ha vinto il campionato E non era proprio Scontato che vincesse Con quella squadra L'E E poi c'è questo Capolavoro qua Quindi Da tifoso del Napoli Io ricordo che Claudio Arrivò nel dopomaradona Che è praticamente Arrivare Dopo lo tsunami In una squadra E fece una Stagione straordinaria E nella seconda stagione Lui non potrà mai dirlo Ma evidentemente È successo qualcosa Nello spogliatoio Che non dipendeva Da lui Col Cagliari Ha fatto una straordinaria Cavalcata Come quella Della CLA In due stagioni E uno che Forse veramente Il primo Tra virgolette Fallimento L'ha fatto con la Grecia Ma poi quello Che ha fatto la Grecia Ha dimostrato Che era sbagliata la scelta Più che il lavoro Che aveva fatto Esatto Poi sai Adesso ripeto Non è perché mi voglio Togliere i sassoni Ma è facile parlare In teoria Io La scelta della Grecia È una scelta Che secondo me Andava proprio contro Le sue caratteristiche Cioè il piacere Di allenare Tutti i giorni Di stare sul campo E trovare Una squadra stanca Lui è uno Che piace stare sul campo Motivare È uno appassionato È uno che ama La tattica È uno che ama Lavorare sul singolo giocatore Sono elementi Come dire Fondamentali Lì ha proprio Toppato la scelta Ha pagato le conseguenze Ma i famosi detrattori Che adesso sono diventati Tutti i migliori amici O comunque Desiderosi di esserlo Gli hanno detto Gli hanno detto di cose Di crude Ed è abbastanza divertente Adesso come Si prostrano Al cosiddetto Nuovo redd'Inghilterra Esatto Senti abbiamo Tantissimi Come puoi immaginare Tantissimi messaggi Perché Poi qui a Roma Comunque Che se ne dica Molti tifosi Hanno Hanno tenuto Claudio Ranieri Nel cuore E dice Ma ad agosto Credevi nelle potenzialità Di tuo suocero E se si Hai investito qualche euro Sulla vittoria Dell'Eister Chiede Simone Mi ripeti la prima domanda Perché qualcuno Simpaticamente Ha usato il caccio Perché si sono incastrati Con le macchine Facendo un delirio E questo dimostra Che non stai All'Eister Ma stai a Roma Ma C'è questa cosa qui Tipo Tetris Non ne uscirà mai più Esatto Dice ad agosto Tu hai creduto Nelle potenzialità Di tuo suocero E se si Hai investito qualche euro Sulla vittoria dell'Eister Chiede Simone No perché Non si gioca Sulle squadre Di propri parenti Amici Eccetera Almeno dal mio punto di vista E Che vi devo dire Perché è troppo facile Parlare adesso Quindi non dirò Niente particolare Però diciamo che io Il Leister Per una casualità Della mia vita Che non c'entra niente Con Claudio Eccetera Per una Passione Che ho Lo conoscevo già E quindi Sapevo quello che aveva fatto Sapevo tutto quello Che era successo E Mi sembrava Un posto abbastanza Adatto a lui Assolutamente Tra l'altro Tu puoi anche dire Che non ci credevi Perché abbiamo mandato Un video In cui lo stesso Claudio Ammetteva di non crederci Quindi insomma All'inizio Alla vittoria Alla vittoria Ma la vittoria Come dire Nessuno Questa è una cosa Che si è creata Conoscendosi Cioè quando si sono conosciuti Quando si sono capiti Quando hanno fatto Un patto silente Secondo me Tra la squadra L'allenatore Quando si è creata La famosa chimica È scattato tutto Poi Assolutamente Senti Francesco ti chiede Ma sti centimetri Il sor Claudio Non poteva tenesseli Per lo scudetto da Roma Beh ha citato le parate Di storaria Alessandro non a caso Però gliela leggo Quella data Quel 25 aprile Chiede vendetta Sì io potrei pure dire La qualità Di certi esseri umani Però sarebbero Facile adesso Quindi non lo dirò Sì io ricordo Una bellissima E l'ho ricordata pure prima Una bellissima intervista A Malcom Pagani All'Espresso Di Claudio Che diceva molto Insomma Con la solita signorilità Però Sì perché tanto Nel senso Bisogna avere la coscienza A posto Io so Che lui A Roma Ha dato più Del fritto Cioè a casa sua La sua squadra Avrebbe Avrebbe Si sarebbe tagliato una mano Per vincere lì E E So quanto Gli è costato Non vincere per così poco Quindi Ripeto È facile Parlare Pensare Non sapere Eppure Il gioco giusto Che sia così Perché loro sono personaggi Che stanno In un altro livello Eccetera Quindi è giusto Che ci sia il tifo Però va sicuro Che Che A parole È facile Ma Poi stando lì Ci teneva parecchia Ed è una cosa Che Come dire Che si ricorderà Che si desiderava tanto Ecco Era un suo sogno Ha rinunciato anche A un milione di euro Ricordiamolo Perché non è proprio Da tutti Da contratto Però Insomma L'ho ricordato io Visto che appunto Fu Si si dimise Cosa che non succede spesso Nel calcio Nel calcio Italiano No ma Tutti dicono No è quando è stato Mandato via Mandato via Vuol dire Prendi tutto Quando te ne vai Te vuol dire Che lasci sul tavolo E In Italia Chi è che lascia Sul tavolo C'è capito Nessuno Ormai Va bene così Va bene così Senti Chiudiamo con una battuta Alfio ci dice Alessà Io ho un incubo Risolvilo tu Totti che va All'Eister Noi che troviamo Noi immagino sia la Roma Che troviamo In Champions Nei giro All'Eister E Totti che segna Dice Di a Claudio Di non pensare Uno scherzo del genere Ma guarda Io penso che Claudio Non ci pensa Anche perché Ha dichiarato più volte Perché Francesco È la Roma Deve stare a Roma E ha dimostrato Che ci possono essere Delle dimensioni Per Per continuare A essere Un campione Ed allungare Questa Come dire Questo Dorian Gray Che c'è lui Quello che sta facendo In ultime partite Secondo me È un po' Per noi romani È incomprensibile Allora dobbiamo andare Contro uno Contro l'altro C'è stato secondo me Come al solito Una seggerazione Ma in realtà Al netto degli eventi Secondo me Lo stanno gestendo benissimo Perché quello che sta facendo Spalletti Ha creato Qualsiasi sia Il movimento Il miglior Reddito Dai piedi di Totti E noi non abbiamo La formula contraria Se fosse partito Da titolare Però noi abbiamo Questo netto qui Che come entrato Ha cambiato tutte le partite Però i re di Roma Sono un po' Destinati ad essere incompresi Perché quest'anno Comunque è stato doloroso Per Totti Appunto abbiamo detto Che Claudio Probabilmente Ha dato più di Quanto ha ricevuto A Roma Sì Però Come dire Nemo profeta In patria Va bene così Va bene così È andato in un posto Così piccolo Perché avevano Il mid-class inglese E ha vinto la Premier League Con due giorni D'anticipo Dominando la Premier League Perché andiamo a vedere I risultati reali La carta I numeri Quindi dominando La Premier League Va bene così E stascia a me Vedi Poi mi ha darito da solo Perché quando si ripensano Sembra una cosa Talmente folle Sì Penso non ce la dimenticheremo più Cioè è entrato Veramente nella leggenda Oggi mi è arrivato un messaggio Dal rapper Jake LaFuria Sì Stamattina appena mi sono svegliato E mi ha scritto Come ci si sente Essere il genero di Dio Ed è il modo migliore Di chiuderla Alessandro Io ti ringrazio anche Per aver giocato con noi Appunto Se vorrei lamentarti Di tuo suocero Qua comunque potrai farlo È un servizio Non lo diciamo a nessuno Non lo diciamo a nessuno E ti aspettiamo in studio Anche per parlare Dei tuoi prossimi progetti Oggi volevamo Abbiamo dedicato Tutta la trasmissione all'Ester E volevamo entrare un po' A guardare dal buco Della serratura Non ho un ego Che necessita Di essere coltivato così tanto Più che bene Va bene Grazie ad Alessandro Roia Grazie mille Grazie mille Ad Alessandro Roia Il minuto Ad ogni secondo In questa squadra Si combatte per un centimetro È vero In questa squadra Massacriamo di fatica Noi stessi E tutti quelli Intorno a noi Per un centimetro Ogni maledetta Domenica